L'arresto di Garibaldi. La destra doveva completare l'unità d'Italia. Il Trentino, il Veneto, Venezia e Giulia non facevano parte del Regno d'Italia e anche Roma e il Lazio che si trovavano sotto il Papa ed era difficile da risolvere questa situazione perché gli italiani erano tutti cattolici e quindi appoggiavano il Papa. Inoltre Roma era difesa dalle truppe dei francesi inviate da Napoleone III. Erano state inviate contro la Repubblica Romana ed erano rimaste a Roma. Nel 1849 infatti non furono più richiamate queste truppe e rimasero lì. La destra quindi per completare l'unità d'Italia per entrare a Roma doveva trovare un accordo con il Papa e con Napoleone III ma questi non erano disposti all'accordo. Pensando che Vittorio Emanuele II fosse favorevole, Garibaldi nel 1862 provò ad entrare a Roma e quindi partì dalla Sicilia con i suoi volontari. Ma Vittorio Emanuele II lo fermò. Infatti Vittorio Emanuele era convinto che Napoleone non fosse d'accordo e il governo italiano non voleva inimigarsi la Francia. Quindi sull'Aspromonte in Calabria Vittorio Emanuele II inviò le truppe italiane e arrestarono Garibaldi. Allo stesso tempo Vittorio Emanuele II sostituì le truppe dei francesi con quelle italiane per difendere Roma e spostò la capitale da Torino a Firenze per dimostrare a Napoleone III che non c'era alcun interesse ad occupare Roma da parte del Regno d'Italia.